Dalla memoria al futuro. È stato intitolato così il camminamento pedonale realizzato dalla provincia di Pesaro Urbino, dedicato alle vittime del Covid-19 e al personale sanitario che ha lottato per uscire dall'emergenza. 350 metri immersi nel verde del Parco Peppino Impastato, a fianco del campus scolastico, che vede al suo interno alberi da frutto, panchine tavoli in pietra e una nuova opera ad illuminare il percorso. La scultura costruita da Leonardo Nobili, dal nome Lacerazione 2020, non è solo un motivo di ricordare chi non c'è più, ma è anche un simbolo di speranza per i giovani, di ambiera di importanti traguardi. La scultura è nata, anche così per caso, che ho avuto modo di trovare questo tronco nella mia zona qua di Montecchio. Un signore che si chiama Bruno Magi, che ha un'officina nella zona, e lui mi disse se vuoi un tronco del genere io ce l'ho. Vieni con me, gira attorno all'officina e mi disse ecco, questa è l'opera che potrebbe fare per te. Io sono rimasto stupefatto perché effettivamente questa grande quercia, che rappresenta un po' la potenza, addirittura si parla di 400 anni, però questa quercia era già stata ferita, perché potrei raccontarti un aneddoto, che è il periodo dell'ultima guerra, a Montecchio c'è stato uno scoppio e le schegge di ferro sono entrate nei rami di questa quercia, che in un secondo tempo sono stati costretti a tagliarla. Quindi è reale quella che vediamo, non ci facciamo io. Io non ho fatto altro che fargli questa lacerazione come se fosse una ferita, una ferita che si stacca dal corpo e pronta per ricompattarsi. Dove io ho anche inserito questo vetro frantumato, che sono le frantumazioni della nostra vita quotidiana, ma nello stesso tempo è anche guardare verso lo spazio, la trasparenza è una piramide e quindi ha un senso anche di salvezza. Quando ho incontrato Nobili, l'artista, che mi ha parlato di questo tronco che aveva trovato e che addirittura risale, era morto poco dopo il bombardamento della seconda guerra mondiale su Montecchio, mi ha parlato di questa lacerazione. L'idea mi è piaciuta, gli ho detto ok facciamolo, lo facciamo lì, però non voglio che sia solo un ricordo per le vittime del Covid. Questo qui deve essere un ringraziamento, un riconoscimento a tutti i medici, a tutto il personale infermieristico, a tutti quelli che sono stati in prima linea e che molte volte sono stati anche bistrattati. Loro hanno sempre fatto molto più di quello che era il loro dovere. E quello che voglio dare, trasmettere ai giovani è la speranza, perché la speranza non fa sparire la paura, però la mette in secondo piano. Io so che debbo raggiungere qualcosa, so che al di là della paura c'è e potrebbe esserci, anzi sicuramente ci sarà, un futuro radioso.